Dopo la riapertura ai mezzi sino alle 30 tonnellate, riprende anche il cantiere sul viadotto Puleto lungo la E45, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio per rischio collasso. I lavori di manutenzione programmata per il risanamento e il miglioramento sismico del viadotto tra Val Savignone e Canili sono ripresi lo scorso lunedì mattina e saranno gradualmente a regime nei prossimi giorni. Gli interventi erano stati sospesi poco dopo l'avvio lo scorso 11 marzo in ottemperanza al divieto di alterazione dello stato dei luoghi disposto dalla Procura di Arezzo nell'ambito delle indagini in corso. I lavori, programmati ed appaltati da ANAS nell'ambito del piano di riqualificazione della E45, riguarderanno in particolare il risanamento del calcestruzzo, il miglioramento sismico dell'opera, il rifacimento delle solette e l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza. L'intervento per un investimento complessivo di 2 milioni e mezzo di euro avrà una durata di 200 giorni. Il transito tra Val Savignone e Canili è consentito a tutti i veicoli non superiori alle 30 tonnellate, come disposto lo scorso 10 luglio dall'autorità giudiziaria. Per il via libera anche ai mezzi oltre le 30 tonnellate invece si dovrà attendere la decisione della magistratura.